San Drigo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza un dipendente dell'Ecoplas di Via Pacinotti, vittima di un infortunio sul lavoro. L'uomo ha riportato un grave trauma facciale, le sue condizioni sono molto serie e i medici non si sono ancora pronunciati. Spetta ora i carabinieri e i tecnici dello Spisa al capire l'esatta dinamica dell'incidente. Rosà deteneva Cianuro di Potassio senza l'autorizzazione delle autorità competenti. Era stato anche accusato di non aver vigilato adeguatamente e non aver custodito in maniera debita i prodotti chimici pericolosi dopo che era stata chiusa l'azienda. Era finito così nei guai un imprenditore di 62 anni che aveva cessato l'attività ancora nel 2011. Nel suo capannone, oltre al Cianuro, erano state rinvenute altre sostanze tossiche non smaltite. Dopo aver svolto lavori di pubblica utilità, i reati sono stati dichiarati estinti. Asiago sarà aperta anche in orario serale la biblioteca civica grazie al lavoro dei volontari dell'Associazione Studi Asiago, di cui fanno parte studenti universitari dell'Altopiano. Durante la sera non sarà possibile prendere in prestito libri, ma la biblioteca potrà essere usata da chi vuole studiare, fare ricerca o semplicemente leggere.